8 settembre in montagna, ci parlavamo con grande fervore, fumo in Italia, l'Italia all'onore, e per cacciarlo straniero presto. I tedeschi ci chiamano banditi, i fascisti ci chiamano ribelli, ma noi siamo soltanto di quelli che l'Italia voglia liberare. Ma noi siamo soltanto di quelli che l'Italia voglia liberare. Fare la pelle a quei voglia di litre, e avere un ghiacco di Mussolini, perché per colpa di quegli assassini già troppa gente ha dovuto soffrire. Come le mamme che hanno perso i bambini, come le spose che hanno perso i mariti, come l'Italia gettata nel tutto, per la ferocia del fine invaso. O Germania che sei la più forte, fatti avanti se hai del coraggio. Se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti saprè. Se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti saprè. Se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti saprè. Allora. Sì.